Buongiorno e ben trovati in questa edizione di mattino 6 di mercoledì 15 marzo 2017 andremo a vedere subito le prime pagine delle testate locali poi quelle delle testate nazionali dopodiché approfondiremo il quadro scendendo all'interno dei quotidiani abruzzesi partiamo subito con la rassegna partiamo con le quattro edizioni del centro questa è l'apertura dell'edizione aquilana terremoti e boati torna la paura l'aquila sgomberati uffici e scuole cialente dice gli esperti rassicurano e poi sotto la testata decreto approvato voucher e appalti referendum il 28 maggio e poi ancora le primarie del pd emiliano ecco cosa farò per l'abruzzo emiliano ieri è stato in abruzzo e poi ancora oggi a roma concessioni la protesta dei balneari la fotonotizia al centro arte sui ponteggi del teatro all'aquila le opere illuminate per renderle visibili di notte poi di spalla in marsica ladri in aziende e abitazioni cresce l'allarme autostrade in valle peligna quei viadotti pericolosi parte l'esposto e poi ancora in basso nuovi investimenti in vitalia punta sulla nostra regione incentivi per 143 milioni di scariche di bus si toto holding oggi altare il ricorso contro il bando per la bonifica il futuro dell'aquila così cambierà la periferia arrivano 18 milioni per piste ciclabili e centri sociali e poi ad avezzano furbetti del fisco altri due denunciati ora la prima edizione di chieti un nuovo abuso per rettore dg inchiesta bis sulle ultime nomine all'ateneo e l'assemblea diventa una festa e poi al centro gli studenti danno i numeri catena umana chieti per ricostruire ricostruire la sequenza del pigreco di spalla transennata a chieti la piazza rossa può crollare a lanciano morì in piscina i familiari 200 mila euro e poi in basso si sveglia con i ladri in casa derubata 80 ottenne i malviventi le dicono torna a dormire a vasto svaliggiata la boutique 40 mila euro di bottino e siamo alla edizione metteramana 30 milioni per l'area di crisi arrivano i fondi per rilanciare le imprese della zona vibrata tronto poi la fotonotizia la nuova vita di film melillo da coach di serie a all'edicola a rossetto sono stufo del basket di spalla cure vietate mini ospedali medici fanno ricorso al tar val vomano rapinano donna con lo spray al peperoncino in basso sulla costa martin sicuro ripescato cadavere in mare la vittima è un uomo di colonnella non si esclude il suicidio poi scontro mortale 80enne condannata per omicidio colposo la prima pagina di pescara del centro di edizione di pescara dirigente in asle indagato per truffa pescara la procura accusa bocca bella cartellini non timbrati poi la foto al centro treno verde festa dei bimbi ultimo giorno con il convegno di lega ambiente alla stazione di spalla pescara paziente morta tre medici sono sotto accusa rettore edg nuova inchiesta sulle nomine poi in basso a pescara c'è troppo rumore inquinamento acustico sopra i limiti ma l'aria è più pulita sempre oggi muore a 17 anni spoltore in lutto oggi appunto i funerali vediamo la prima pagina del messaggero abruzzo il nuovo ospedale tolto alla asl a chieti il governatore d'alfonso dice azienda sanitaria inerte il policlinico lo costruirà la regione in ballo il progetto maltauro opposizioni scatenate paolucci necessario un presidio antisismico poi vediamo sotto la testata chieti ateneo decapitato sequestrati gli atti di nomina dei reggenti villa santa maria incendio doloso nella casa in costruzione dell'ex assessore seria terra il doppio ex devi crederci fino all'ultimo ovviamente riferimento al pescara di spalla gli autisti in sciopero si fermano tutti i bus la protesta il 26 aprile a causa dei tagli settore a rischio default e poi in taglio medio tangente fiscale condannato commercialista il professionista avrebbe corrotto un funzionario dell'agenzia delle entrate la foto l'aquila trema ancora scuole evacuate scossi accoppito toccata magnitudo 3.2 poi ancora la partenza di del vecchio che dovrebbe entrare nello staff della regione con nello staff di luciano d'alfonso e per il ruolo di vice sindaco nel caso ci sarebbe blasioli in pole position e poi in basso giulanova contestato il prete anti tradizioni andiamo a vedere ora la prima pagina della città il quotidiano della provincia di terramo riborsi dimezzati rispetto all'emilia ricostruzione nella bozza d'ordinanza al del commissario errani previsti costi parametrici più bassi del 2012 sotto la testata roseto inchiesta chiusa cava ad un passo dal giudizio in consiglio secretato il caso delle multe del comandante dopo le polemiche convivenza possibile con il parco marino tra i comuni di silvi e pineto a roseto ancora allarme entrate per le casse comunali poi la foto al centro a montorio ricostruzione ferma uffici fuori dal cratere chiusi per carenza di personale di spalla giudiziaria picchiava la madre per comprare alcol trentenne di torricella rischia il processo il terramano denunciato torna dalla madre da fuoco ad un quadro estorsione il dg della bcc profeta assolto anche in appello in basso leggiamo anche housing sociale via lungo all'anno zero polemiche in commissione sulla proposta privata chiaramente a terra ma giulianova ex mercato coperto il sindaco mastro mauro commissariato da filipponi a martin sicuro ripescato in mare il corpo di un sessantasettenne lasciamo ora i quotidiani locali e andiamo a vedere a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali iniziamo dalla stampa allarme migranti sbarchi record le previsioni del governo 250 mila nel 2017 accuse alle navi dell'ONG usate come taxi dagli scafisti da rivedere il piano di collocamento nei comuni sentenza della corte europea si può vietare il velo islamico al lavoro e poi la foto al centro l'androide dal volto umano a londra la rassegna sulla convivenza con i robot avranno delle esigenze poi in taglio medio il santone di torino stupri di gruppo alle sedute spiritiche abusi su una 17enne arrestato con due complici almeno 20 le vittime sequestrati i filmati la prima pagina di repubblica voucher solo alle famiglie un decreto del governo cancellerà il referendum data fissata ma la legge sarà cambiata per evitare il voto dalle imprese agli artigiani ecco cosa succede adesso la corte corte ue le aziende possono proibire ma il divieto al del velo al lavoro è una risposta intollerante poi ancora la cyber guerra è fra noi ora gli hacker nella difesa parla graziano capo di stato maggiore avanti ancora con la prima pagina di libero missione possibile aiutiamo il pd a sfasciarsi da mesi il partito offre uno spettacolo disgustoso lotte di potere discussioni inconcludenti che la gente non ne capisce per completare l'opera i progressisti sfideranno in favore degli immigrati dei quali i cittadini non ne possono più sondaggio horror per i renziani che scendono al 23 per cento movimento 5 stelle avanti centrodestra primo se si unisce poi al centro sono peggio di de magistris i dem vietano la festa del 25 aprile a salvini matteo farò un corteo per la legittima difesa i compagni sporchi la liberazione e poi ancora in basso il referendum indetto da lombardia e veneto piace anche agli altri un italiano su due sogna regioni autonome lasciamo libero andiamo al fatto quotidiano in inchiesta consip lotti nei guai altre conversazioni e marroni non ritratta le accuse la di della società dice no ai legali di baborenzi oggi la mozione sul ministro in alto vediamo voucher appalti referendum 100 milioni sprecati senza election day la data per la consultazione fissata al 28 di maggio la prima pagina di repubblica pardon del messaggero un altro referendum inutile fissata al 28 maggio la consultazione su voucher e appalti decreto del governo per evitarla gentiloni correggeremo la legge ipotesi ticket soltanto per le famiglie poletti apre all'election day e poi ancora vediamo la inchiesta consip sfiducia lotti battaglia in senato i giudici svelato il sistema romeo rientro dei capitali italia svizzera nuovo accordo anti evasione vediamo in taglio medio la foto fion indagato caccia al successore il candidato della destra nei guai per gli stipendi a moglie e figli trattati di roma all'armeno global la città si bindeli 007 antagonisti e forza nuova vogliono alzare la tensione in vista del g7 a taormina e poi in basso all'italia montezemolo si dimette lascia la presidenza ma resta nel cda in arrivo gubitosi e poi dalla parte opposta squadra svogliata stagi in fabbrica l'allenatore del lugano vi faccio vedere chi fatica davvero andiamo con l'avvenire politiche familiari qualcosa si muove la lombardia vale il fattore famiglia per i servizi la regione guidata dal centro destra innova sulle tariffe in senato si esamina il progetto pd dell'assegno unico per i figli la prima pagina del tempo vietato ammalarsi nel lazio ecco le liste d'attesa shock il dossier parla di oltre 260 mila pazienti che aspettano anche mesi per una visita oculistica 85 giorni cardiologica 62 neurologica 72 oncologica 32 poi al centro la tartaruga nina la showgirl si butta in politica con l'estrema destra di casa pound e poi vediamo da quest'altra parte meno male che silio chef c'è questo gioco di parole con un famoso inno di forza italia e va all'asta 30 mila euro per pranzare con berlusconi sotto c'è un editoriale il menù del cav firmato da emilio fede avanti con il manifesto facciamo il bis abemus date il consiglio dei ministri indica il 28 maggio per il referendum contro i voucher e il sistema degli appalti cgl sinistra italiana e movimento 5 stelle chiedono l'election dei abbinamento con le amministrative per poletti è una cosa possibile ma il governo teme il bis del 4 dicembre tenta di bloccare il voto con un decreto il mattino voucher il caso del referendum il governo voto il 28 di maggio ma è scontro sul decreto legge per evitare le urne il ministro poletti non escluso l'election dei con le amministrative i centristi ad attacco no al tetto per le imprese poi sotto la testata leggiamo due titoli napoli scandalo bus selvaggio saranno sanzionati gli autisti e poi gabrielli il diritto di parola tutelato senza se e senza ma il capo della polizia sul caso salvini la digos scontri organizzati a tavolino la gazzetta del mezzogiorno questa l'apertura referendum nuova sfida salvo modifica il testo il 28 maggio si vota su voucher e appalti pd e governo brindano il ministro lotti no al ritiro delle deleghe e poi parla col diretti le mafie ingrassano col cibo degli italiani agricoltura e ristoranti mano a criminali sconcertanti dati in puglia primato nel barese un business da almeno 22 miliardi l'anno e andiamo ora con la verità il vizietto del giglio magico lotti altra inchiesta con fuga di notizie il ministro oggi in senato per la mozione di sfiducia dopo le spifferate sul caso consip lui nega tutto però testimoni lo accusano di aver fatto la stessa cosa per una turbativa d'asta a firenze poi in taglio medio la vogliono processare per aver criticato i gay e poi sempre in taglio medio l'europa ne fa una giusta il velo può essere vietato la corte di giustizia le aziende hanno il diritto alle loro regole interne ci fermiamo qui con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali torniamo a quelli locali andiamo sul centro ripartendo da pagina 2 e 3 ecco qui spiagge roventi i balneari tornano in piazza una riforma sulle concessioni i titolari degli stabilimenti abruzzesi si uniscono alla manifestazione nazionale di oggi a Roma le richieste anticipate a pescara no proroghe né aste vogliono toglierci ciò che abbiamo creato e poi altre testimonianze il consiglio regionale dovrebbe varare due leggi che possono darci qualche speranza dice giuseppe susi di fiba confesercenti il comandante della direzione marittima enrico moretti è necessario tener conto della peculiarità tutta italiana di gestione delle spiagge poi in basso e la regione autorizza lo le scogliere fai da te possono essere realizzate d'inverno ma gli ambientalisti ricorrono provvedimento da annullare ancora il presidente della regione d'alfonso c'è un diritto che va preservato non bisogna ululare alla luna ma individuare una strada efficace da percorrere insieme poi il ministro enrico costa ieri era presente a pescara al commegno dei balneatori il ministro si rivela local le imprese vanno tutelate poi in basso per conservare queste attività occorre salvare la qualità del mare alberto corraro segretario della di consum di pescara i balneari si sono svegliati tardi sull'inquinamento e si sono concentrati sulla bolkenstein e poi ancora fuori dal coro al bonetti siamo nel limbo la protesta è inutile e allora andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione ieri proprio in occasione del convegno dei balneatori con la presenza del ministro costa il ministro per gli affari regionali e le autonomie enrico costa ha chiuso oggi da tre giorni del sarah food importante evento fieristico del settore alimentare che da quest'anno si tiene nella nuova location del pescara fiere il ministro ha preso parte ad una tavola rotonda organizzata da confesercenti del sindacato italiano balneatore sul riordino delle concessioni dei maniali e per parlare di futuro del turismo balneare presente anche il governatore luciano d'alfonso che ha ribadito l'importanza di difendere questa categoria e che questa è un'attività con valore territoriale noi abbiamo nel decreto enti locali approvato un emendamento che mette in sicurezza fino alla disciplina organica della materia le concessioni che erano state prorogate è fondamentale adesso che ci sia un cambio di passo un cambio di passo che però tenga in considerazione gli sforzi sacrifici gli investimenti che sono stati posti in essere dalle imprese che sono soprattutto piccole imprese molto spesso imprese familiari e sarà poi necessario aprontare i decreti legislativi e solo attraverso un'approvazione rapida del parlamento noi saremo in tempo a mettere in piedi i decreti legislativi su questi ci sarà un coinvolgimento di tutti i soggetti in campo dagli enti locali alle associazioni di balneari con i quali abbiamo avuto comunque un continuo confronto io penso che però tutti quanti debbano leggere il provvedimento della corte di giustizia e se la corte di giustizia ci ha detto che una proroga al 2020 ed eravamo nel 2016 non è legittima per loro mi chiedo come potrebbe essere legittima una proroga di 30 anni noi dobbiamo concepire il doppio binario un binario che va a competizione per i nuovi e un binario che tenga conto di questa straordinaria esperienza che viene dal passato io non riesco a immaginare le nostre spiagge senza questa formidabile attività che coincide con gli stabilimenti balneari io farò l'impossibile attraverso la legislazione regionale affinché quella nazionale l'ordinamento europeo si accorgano dello specifico italiano e dello specifico dell'adriatico sempre sul centro si parla della visita di ieri di michele emiliano primario in abruzzo emiliano non siamo il partito di banchieri petrolieri e finanzieri il governatore della puglia pescara lancia la scalata al pd e a renzi e ricostruire l'idea dell'ulivo che ci ha portato due volte al governo il giovanilismo al potere dell'attuale segretario si è risolto nello sfoggio di vestiti alla moda il risultato del suo governo sono mille giorni di grandi fallimenti ho abbattuto punta perotti e mi sono abbattuto per il referendum contro le trivelle in mare metterò lo stesso impegno per la bonifica di bussi avanti ancora bussi a proposito il ricorso di toto arriva al tar oggi udienza a roma la holding chiede di annullare il bando per la bonifica ecco le memorie delle parti ora le pagine di pescara e pagine della cronaca università nella bufera rettore dg scatta l'inchiesta bis nomine dell'ultima ora il pm ipotizza un nuovo abuso commissario scelta tra frati e paleari qui vediamo gli atti incriminati ore 13 di lunedì carmine diglio nomina bacca come pro rettore poi il secondo attore 14 e 04 di lunedì del vecchio designa di antonio come vice direttore generale e poi ancora l'assemblea diventa una festa applausi per capasso solidarietà a de carolis ora i lavoratori della d'annunzio chiedono di annullare la punizione al senatore noi siamo tutti goffredo lo slogan pronti a scioperare per il collega in basso confronto all'università start up e inventori geniali ecco come trovare i fondi la testimonianza di de blasi su internet è possibile scoprire nuove opportunità l'idea di de cerchio un portale dedicato al vino puntando sui piccoli produttori e poi ancora la proposta di cagliati investimenti possibili anche in abruzzo con nuovi servizi inchiesta sulla asl truffa del cartellino processate il dirigente bocca bella a capo del distretto di penne finisce sotto accusa anziché nell'area vestita sarebbe rimasto a pescara o andato altrove e poi ancora in basso leggiamo psicoterapia da fortunato l'avvertimento numero 5 subito le visite settimanali sono già 14 gli esposti inviati alla procura dai pazienti che si sono rivolti anche al nas psicosi morbillo parte la corsa vaccinarsi dopo le rivelazioni del centro sull'epidemia in città aumentano le richieste di prenotazioni e poi morì per diagnosi superficiale tre medici rischiano il processo la procura chiede i rinvii a giudizio avanti ancora l'aria è più pulita in città ma scatta l'allarme rumore negli ultimi giorni siamo chiaramente a pescara i valori delle polveri sottili al disolto della soglia di guardia inquinamento acustico in crescita ovunque anche nei pressi dell'ospedale sulla riviera sud i detriti vegetali portati dal fiume c'è l'intervento di Attiva avanti ancora menze maxi risarcimento al comune due dipendenti coinvolti nell'appalto per gli anni 2010-2013 condannati dalla corte dei conti a versare 685 mila euro per i giudici contabili l'impresa appaltatrice avrebbe risparmiato su personale e attrezzature fornite e poi ancora in taglio medio aggressioni in carcere will cgl contro la sezione psichiatrica e poi ancora del vecchio pronto a lasciare per la regione via al rimpasto il vice sindaco capo della segreteria di D'Alfonso dovrebbe prendere il posto di Claudio Ruffini e poi senza tetto nel gazebo in spiaggia la polizia municipale ha sgomberato due uomini e un cane sulla riviera nord muore a 17 anni spoltore sotto shock Gabriele giovane volontario ucciso da una malattia fulminante lo strazio degli amici eri il migliore di tutti noi avanti ancora con la cronaca di Montesilvano accoglienza e sicurezza individuati gli immobili per ospitare i rifugiati tante manifestazioni di interesse di proprietari e associazioni di tutta Italia scartati i locali in zone turistiche il nuovo sistema limiterà a 161 gli immigrati poi in basso lezione di fratellanza alla media Silone gli studenti incontrano padre Daniele il missionario racconta di guerre e solidarietà in sud Sudan poi ancora nell'area metropolitana parcheggio ai privati Francavilla in perdita il centrodestra critica la costruzione dell'area per la sosta al casello della 14 in cambio delle strisce blu in città si rinuncia a un incasso di 3 milioni di euro poi sempre Francavilla critiche alle opere sulle mura interrogazione di Di Renzo sulla salvaguardia dell'aspetto estetico lasciamo lo speciale sulla Formula 1 restiamo sempre in provincia di Pescara andiamo in Val Pescara rogo in un capannone artigianale anzi qui siamo nell'area vestina rogo in un capannone artigianale provoca danni per 30 mila euro l'incendio è divampato in uno stabilimento di termoidraulica incontrato da San Pellegrino a Penne i carabinieri indagano sulle cause che hanno scatenato le fiamme vigili del fuoco al lavoro per ore poi troppi animali morti pecorino a rischio il sindaco di Farindola lancia un nuovo appello l'agricoltura è in ginocchio la burocrazia ci soffoca andiamo ora con le pagine di Chieti e l'Aquila Chieti, progetto Maltauro la ASL è in fuorigioco la regione avoca a sé l'operazione da 260 milioni d'Alfonso procedimento non definito tre anni di inerzia le reazioni al veleno di Marcozzi dei 5 Stelle e Febbo di Forza Italia e la replica secca di D'Alessandro del PD in basso furto a vasto svaliggiata dalla boutique in centro sparita merce per 40 mila euro 13 minuti per fare il colpo un altro furto ma Chieti si sveglia con i ladri in camera derubata una 88enne in due le dicono torna a dormire all'Aquila la cronaca violenza sessuale bambina molestata 66enne condannato l'anziano patteggia 24 mesi evitato il carcere solo con l'impegno a risarciare la famiglia della piccola di 9 anni poi torna la paura per il terremoto terremoto e boati sgomberati uffici e tre scuole Cialente gli esperti rassicurano appello da Montereale Giorgi il sindaco vanno avviati i lavori per la strada statale 260 poi in basso furbetti del fisco nei guai ristoratore e venditore d'auto sequestri da parte della guardia di finanza e chiudiamo con la pagina di Teramo economia da rilanciare dal governo arrivano 30 milioni per riaprire le imprese in vibrata area di crisi complessa ad aprile saranno pubblicati i bandi per finanziare i progetti delle aziende Pepe e altri sette saranno messi dalla regione ora siamo in cerca di fondi per la Pede Montana in basso ancora la cronaca in Valvomano rapina con lo spray urticante vittima una donna derubata dalla borsa denunciati 4 rosetani e a Martinsicuro cadavere ripescato in mare e un pensionato 67enne di colonnella non si esclude il suicidio con questo titolo noi lasciamo la cronaca del centro ci fermiamo diamo lo spazio alle previsioni del tempo poi alla pubblicità e poi rientriamo con le pagine del messaggero e della città di nuovo buongiorno è la seconda parte di mattino 6 che riprende con il messaggero Abruzzo D'Alfonso la ASL è inerte l'ospedale lo facciamo noi la regione stromette l'ente che aveva espresso dubbi sull'appalto commissione di tecnici per realizzare l'opera in project financing con Maltauro le parole dell'assessore sanità Paolucci nessuno ha saputo indicare altre soluzioni l'attuale policlinico ha gravi problemi la città deve essere dotata di una struttura antisismica al tavolo in cui è stata decisa la vocazione erano assenti gli esperti critici sulla procedura e poi in basso il ministro Costa ai balneatori possiamo strappare 3-4 anni e siamo alle pagine di Pescara Blasioli sarà il nuovo vice sindaco del vecchio diventa capo della segreteria di D'Alfonso lusingato dalla dimostrazione di fiducia del presidente presidenza del consiglio comunale a Presutti o Pagnanelli l'aula apre le porte a Casciano salvo il seggio di Natarelli la sua efficienza dimostrata a Palazzo di Città lo ha reso il miglior candidato a numero 2 il riferimento è a Blasioli l'assessore civitarese chiede rinforzi serve una struttura per la mobilità frustranti per lui le sovrapposizioni tra i vari settori per mancanza di personale che sto a fare qui si chiede l'assessore e poi nuovi sequestri della mobile per il parco del Lavino avanti ancora con le pagine di Pescara tangente fiscale prima condanna un anno e quattro mesi al commercialista accusato della corruzione di un funzionario la finanza filmò la consegna della busta al capo dell'ufficio legale dell'agenzia delle entrate rinforzi e stop ai detenuti psichiatrici le richieste dopo le aggressioni in carcere la popolazione carceraria in aumento a San Donato ma gli agenti sono sempre meno avanti ancora morbillo in calo il picco di contagi nessun nuovo caso nelle ultime ore dopo i 25 ricoveri che avevano fatto scattare l'allarme a pediatria e infettivi a partire da febbraio un centinaio le persone colpite i medici colpa del calo di vaccinazioni pericolo per le complicanze poi ancora in basso Emiliano a Bussi qui l'industria deve ripartire lo sfidante di Renzi a Pescara e dintorni da Alfonso non c'è lo capisco e allora andiamo a vedere il servizio realizzato proprio sulla presenza ieri in Abruzzo di Michele Emiliano Ha toccato oggi l'Abruzzo il tour dell'esponente del Partito Democratico e attuale Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano uno degli sfidanti del segretario uscente Matteo Renzi ha illustrato idee e programmi per un PD che torni ad essere vicino alla gente al suo fianco questa mattina a Pescara fra gli altri il parlamentare abruzzese Antonio Castricone il sindaco di Franca Villa al Mare Antonio Luciani ed il consigliere comunale di Chieti Luigi Febo voglio riportare nel Partito Democratico i tanti elettori e militanti che abbiamo allontanato quindi la mia mozione è un richiamo a tutti quelli che sono andati a votare altri partiti soprattutto il Movimento 5 Stelle ma che hanno anche smesso di andare a votare sono tantissimi sono di più di quelli che sono rimasti e quindi la mia mozione serve soprattutto a questo poi a riportare il tema del lavoro della scuola di quelli che senza il lavoro e senza la scuola non vanno da nessuna parte sono gli ultimi sono quelli che non contano nulla che dovrebbero essere l'oggetto principale della sinistra li voglio riportare al centro della nostra analisi politica e li vogliamo difendere vogliamo essere le persone che li aiutano a vivere meglio e poi l'ambiente vorrei che la mia esperienza di amministratore che tutela l'ambiente sia l'esperienza di tutta l'Italia l'Italia è il posto della bellezza che va tutelato anche attraverso politiche ambientali che siano le più moderne possibili e poi sono qui in Abruzzo in modo particolare perché questa è una terra alla quale io ho sempre dato tantissima attenzione negli anni non solo adesso che sono candidato e quindi in tanti momenti di difficoltà del PD dell'Abruzzo sono venuto qui quando Pescara era governata dalla destra quando la regione era governata dalla destra ho sempre dato una mano a tutti i miei amici a tutti i miei compagni le mie compagne di questa terra meravigliosa mi auguro che la mia mozione renda chiaro a tutti che nella vita si possono anche fare cose controcorrente anche cose apparentemente difficili ma che poi dopo le difficoltà se uno ha scelto la strada giusta si può aprire un futuro importante e radioso quindi la mia mozione vuole aprire al PD e all'Italia un futuro di libertà un futuro di cura di chi ha più bisogno di essere aiutato e di chi in questo momento evidentemente viene trascurato proprio dal partito più importante della sinistra italiana datemi una mano perché tutti possono venire a votare alle primarie del partito democratico tutti coloro che voterebbero il PD se io ne fossi il segretario possono votare per il PD conversioni comprese pagine dell'Aquila bici community verde e giovani progetti per riconnettere la città finanziamenti per oltre 30 milioni il comune ha presentato le proprie idee San Gregorio restyling delle case popolari previsto un riutilizzo del progetto case per l'assessore Maurizio Capri si tratta di un tesoretto per la prossima amministrazione e poi ancora addio a sbaffo l'architetto presidente dell'urban center in basso provincia guai contabili per un dirigente rischia di tirar fuori dalle proprie tasche la rilevante somma di 54 mila euro sempre all'Aquila scosse incubo infinito fuggi fuggi dalle scuole riesplode la polemica due terremoti di magnitudo 2.8 e 3.2 con epicentro coppito evacuati gli istituti musp compresi secondo i piani d'emergenza 5 classi del liceo Cotugno al colecchi le accuse della preside Ottaviano poi ancora in basso Nardecchia costruttore della città nuova una settimana fa se ne andava 84 anni dopo una vita dedicata all'Aquila poi ancora un convegno sempre all'Aquila di qualificazione urbana e le opere nel sottosuolo in Marsica non dichiarano redditi in due nei guai per evasione fiscale posti di sigilli ai beni di un ristoratore e di un rivenditore di autoveicoli ambe due di Avezzano il giudice ha ordinato il sequestro preventivo in modo da recuperare quanto illegittimamente sottratto all'erario le indagini sono state avviate dalla procura dietro segnalazione dell'agenzia delle entrate siamo nelle pagine di Chieti e provincia applausi e rabbia l'università esulta per i vertici sospesi ovazione per Capasso il professore autore dell'esposto decisivo per il dipendente punito Goffredo De Carolis i dipendenti della denuncia in assemblea dopo i provvedimenti contro il rettore e il direttore generale dittatori abisso etico malaffare volano parole grosse negli interventi si punta a ricostituire e a ricostruire un clima civile anche la scelta dei vicari nel mirino la mobile sequestra gli atti di nomina la data coincide con l'ordinanza del GIP dubbi sul potere di D'Iglio e del vecchio l'ipotesi è abuso e poi ancora in basso paura in viale Amendola si sveglia e trova i ladri in camera andiamo in Frentania Asle nel mirino la filiera dei controlli l'inchiesta sul servizio lavanderia gestito dalla Pubblic Le fatture senza firma e i riepiloghi inesistenti sull'attività sul plus milionario e presunto riciclaggio per gli inquirenti Colasante era il dominus delle quattro società coinvolte al setaccio le mail tra gli uffici ma gli interrogati smentiscono liquidazioni gonfiate a favore della ditta e poi in taglio medio sempre a Lanciano Piromani a Villa Santa Maria incendiata la casa di Dinucci attentato i danni del consigliere ed ex assessore alle politiche sociali trovate tracce di benzina è successo alle 21 dell'altra sera distrutto l'edificio in costruzione i carabinieri seguono vecchie denunce andiamo avanti con le pagine di Teramo estorsione nuova assoluzione per l'ex manager della banca di Teramo Roberto Profeta già direttore generale scagionato dalla corte d'appello dell'Aquila in meno di un anno sono accadute tutte le accuse nei suoi confronti il sostituto procuratore Greta Loisi valuta l'opportunità di presentare ricorso in Cassazione housing sociale dopo cinque anni tutto fermo l'opposizione attacca superficialità politica e amministrativa evidente quartiere decona nel degrado il comitato siamo abbandonati e poi in basso di Sabatino strade dissestate mancano 26 milioni il presidente della provincia si rivolge ad Alfonso la situazione sta migliorando solo parzialmente Giulianova ha contestato il parroco antitradizioni Don Abramo scelto dal vescovo per sostituire Don Domenico si appresta a cancellare altri riti particolarmente cari alla comunità dopo la via Crucis rischia di saltare la benedizione delle palme in piazza Buozia resterebbe solo il sepolcro del Duomo per i fedeli l'interessato stavolta non replica i commenti infuriano sui social e poi ancora morte di Rocchetti nonnina condannata il 24enne di Civitella perse la vita sulla bonifica del Salinello disposta una provvisionale lasciamo il messaggero Abruzzo andiamo a sfogliare le pagine interne della città e il quotidiano della provincia di Teramo ricostruzione pesante rimborsi dimezzati rispetto all'Emilia la bozza dell'ordinanza di Errani prevede costi parametrici più bassi rispetto a quelli del sisma del 2012 inviata ai sindaci la bozza di ordinanza inviata ai sindaci del cratere di prossima emanazione prevede criteri di rimborso per gli edifici danneggiati in maniera significativa grave e gravissima e poi ancora ricostruzione fuori dalle cratere bloccata per un contratto scaduto a febbraio niente rinnovo per 24 interinali ferme le pratiche del sisma 2009 avanti ecco la vicenda di via longo di qualificazione all'anno zero in commissione urbanistica approda la manifestazione di interesse della SGR ma bisogna fare in fretta posizioni scatenate sui tempi dell'intervento le perizie al ribasso sul valore dell'area e gli sgomberi degli inquilini dalle palazzine picchiava la madre per soldi rischia il processo ha chiesto il giudizio per un trentenne di Torricella sicura per sette anni ha vessato la donna per problemi di alcol avanti ancora partita doppia e qui siamo alla politica partita doppia tra il rimpasto e il dopobrucchi centrodestra cittadino in fermento per trovare la quadra tra fine mandato e prossimo candidato sindaco ovviamente a Teramo rischio crollo per il cammino dell'ex Fornace le scoste di terremoto ne hanno compromesso la stabilità ancora presenti nell'area le coperture in Eternit le mini discariche della cona segnalate dai cittadini al comune ma nessuno è ancora intervenuto qui siamo in Val Vibrata un anno per la morte del giovane centauro 80enne condannata per l'incidente che è costato la vita a Sandro Rocchetti l'incidente tra la moto e l'auto della donna avvenne nell'agosto del 2012 lungo la bonifica e poi ancora per la politica siamo sempre in Val Vibrata chiaramente il comitato del centrodestra nasce senza Vagnoni strade sempre più distanti in vista delle elezioni amministrative di Martinsicuro è sempre a Martinsicuro ripescato in cadavere ripescato in mare il cadavere di un 67enne di colonnella l'uomo che si era trasferito sulla costa si è lasciato cadere in acqua a Giulianova il sindaco commissariato da Filipponi retco sull'abbandono della città Mastromauro pensa ad altri traguardi il caso simbolo il mercato coperto di piazza dalla chiesa è destinato a morire dopo le tante promesse fatte siamo a Roseto di Girolamo vuole un ufficiale di riscossione entrate al di sotto degli altri comuni abruzzesi in consiglio scoppia la polemica sui rilievi della corte dei conti per il sindaco la questione delle riscossioni è stata trascurata dalla giunta Pavoni i problemi di bilancio e di liquidità del nostro comune non sono diversi da quelli di gran parte dei comuni italiani dovuti in particolare alla forte contrazione dei trasferimenti statali dice l'ex vice sindaco Pavone restiamo a Roseto caso multe comandante ad un passo dal giudizio chiuse le nuove indagini per falso intanto in consiglio secretato l'intervento dell'ex sindaco Pavone area protetta convivenza possibile con le regole del parco gli amministratori di Silvio e Pineto gettano acqua sul fuoco delle polemiche alimentate dai balneatori i gestori degli stabilimenti restano sul piede di guerra e non rinunciano alla possibilità di presentare un ricorso al Tar e andiamo alle pagine dello sport dopo la strigliata il Teramo prova a cambiare è probabile che qualcuno dei titolari di Bergamo paghi la pessima prestazione generale Ugolotti però non si tocca Ugolotti che riavrà Caidi dopo la squalifica ma il 5-3-2 almeno nell'interpretazione andrà in archivio all'andata la vittoria nettissima al Barbetti riferimento alla partita di domenica prossima con il con il Gubbio al Bonolis e all'andata appunto al Barbetti ci fu un rotondo 1-5 una partita che illusa il Teramo di aver trovato la strada giusta ora dopo aver battuto l'Ancona ai Rosso-Blu Umbri sono gli avversari per una gara senza ritorno allora vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione una strigliata che in casa Teramo si augurano sia salutare anche perché stando così le cose specie in classifica non c'è più spazio per rinvie e attese il Diavolo è ultimo in coabitazione con l'Ancona è vero ma a tre punti di distanza dà la possibilità che il play-out col Modena nemmeno si giochi insomma la situazione è più che grave e disperata la sconfitta di Bergamo alla dirigenza non è andata proprio giù non con le modalità viste all'Atleti Azzurri squadra solita senza nerbo e senza carattere troppo difensiva e incapace di proporre alcunché e allora la società dopo aver annullato il giorno di riposo pretende una risposta sul campo non nel semplice lavoro settimanale ma nei risultati delle buone intenzioni la defoseria non sa più cosa farsene strigliata nello spogliatoio prima dell'allenamento nessuno escluso le ultime prestazioni sconcertanti fossero replicate anche in futuro manderebbero il diavolo direttamente tra i dilettanti senza passare dagli spareggi qualcosa Ugolotti potrebbe cambiare visto che il 5-3-2 è un sistema rivelato si fa alimentare specie nella fase di attacco il tecnico riavrà caidi dopo la squalifica ed è probabile che qualcuno degli interpreti della gara contro l'Albinola F si accomodi in panchina anche perché il Gubbio che all'andata illuse il Teramo di Nofri di aver trovato la strada giusta è squadra per certi versi imperscrutabile anche se non più tardi domenica sera è stato un valido alleato dei Biancorossi fermando proprio l'ancora nel posticipo relegando i Dorici all'ultimo scalino della classifica abbraccetto proprio col Teramo a cui non basterà sperare nelle disgrazie degli altri per evitare il fallimento sportivo senza considerare che qualche risultato va centrato ultimissimi minuti di rassegna stampa abbiamo introdotto lo sportivo sul centro con le pagine sportive presente e futuro buyback è tornato idea Pina Monti chiaramente parliamo di Pescara il francese del Pescara al rientro piace il baby dell'Inter il centravanti in prestito dal Paris Saint Germain è assente dalla partita casalinga con la Fiorentina del primo febbraio nel Merino il 18enne Bomberner Azzurro in passato seguito anche da Juventus Chelsea e Liverpool poi ancora sono stati definiti i posticipi per aprile e allora il sabato 8 aprile ci sarà la trasferta a Empoli dunque un anticipo per il Pescara e poi un posticipo quello di lunedì 24 aprile con Zeman che ritrova la Roma all'Adriatico il doppio ex Pelizzoli caro Pescara purtroppo è già finita il portiere cresciuto nell'Atalanta vestire maglia bianca azzurra dal 2012 al 2014 b inevitabile come quattro anni fa anche se noi crollammo solo nel girone di ritorno bisogna pensare alla prossima stagione costruendo una squadra che possa lottare per il vertice serviva un mercato all'altezza la Serie A non perdona dice Pelizzoli e poi Stendardo potrebbe farcela Caprari verso un nuovo forfè Memushai sfiderà l'Italia il 24 e poi ancora siamo alla Lega Pro Teramo verso il Baratro dopo l'esonero di Nofri il tecnico ex Viterbese è quello con la migliore media punti in questa stagione Zauli via senza una vittoria e ora Ugolotti sta cercando di mettere insieme i cocci in taglio medio di Cosmo carica Roseto con Radonic il patron tetino venite a sostenerci gli Sharks aspettano il visto per l'ala e andiamo a vedere l'articolo di basket Melillo si racconta a 360 gradi dal basket ai giornali io Phil l'americano con Roseto nel cuore sono stufo della palla a spicchi ho comprato un'edicola ma se gli Sharks chiamano puntini puntini arrivato nel 98 il sergente di ferro dopo l'addio alla palacanestro ha acquistato una rivendita di quotidiani si alza alle 4 e 30 del mattino e poi alcuni passi della sua intervista Martinelli il miglior presidente le vittorie con Bologna e Treviso gioie indelebili tornerei a lavorare solo per Roseto il mio rimpianto aver rifiutato le offerte in Russia e poi un parere anche sul neopresidente degli Stati Uniti Trump l'avrei votato negli Stati Uniti sono stufi dei mestieri anti della politica non è razzista vuole bloccare i clandestini in Italia invece puntini puntini lasciamo il centro andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero anche in questo caso iniziamo dal Pescara Pescara devi crederci ancora Ernesto Terra è il doppio ex per la sfida contro l'Atalanta la A non perdona giusta la strada di puntare sul gruppo lancia un messaggio a Stendardo deve restare al Defino potrebbe diventare un punto fermo per le prossime stagioni conosco Zeman con lui vale sempre vedere le partite anche se la classifica è quella che è e poi per il mercato dopo Mancuso può arrivare Proietti centrocampista dal Bassano Bruno Out Memushay della Nazionale Albanese Bruno squalificato salterà la partita con l'Atalanta in basso Iannone Caldarelli top driver pronti a scattare Andrea prova in Qatar lotterò ad armi pari il pescarese ingaggiato dalla Lamborghini per il basket la maglia di Roseto ecco qui la vediamo sul petto di Jabbar Capitan Fulz è stato emozionante sentire i suoi suggerimenti raggianti May Casagrande Radonich Sherrod e il team manager Blois tornando al calcio faccia a faccia chiodi tifosi tutte le quote a disposizione Lega Pro il Teramo non segna Ogolotti cambia per tentare la risalita tre gol in cinque gare bottino non esaltante e la difesa scricchiola e poi chiudiamo con questi ultimi titoli per il calcio il Fadini si illumina per la gara di Coppa del Giulianova e poi per la palla a mano Farma più verso il big match con il Carpi finisce qui la rassegna stampa di mattino sei vi ricordo gli appuntamenti con il nostro notiziario alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 grazie in regia a Gianni D'Areo e a Silvia Gentile grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a voi Grazie a tutti